SIGLA Appena in tempo, devo fare un annuncio importante. Ci sono un paio di Chihuahua in libertà. Tranquillo, ozze dei cani non possono nulla contro uno scogliattolo sotto col carrello. Ehi, spossatezza simulata! Perchè! 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 Oh, mi amici di questo? Ah, preso! Perfine, e continuare a partire. Ehi, spossatezza simulata! 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 Non c'è alcun motivo di preoccuparsi! La tecnologia diesel non può nulla contro l'istinto di una possum... Ehi, spossatezza simulata! 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 Basta la scena alofato! Facciamoci un bel carrello carico di cibo e poi malutere! a proposito tre di quei sacchetti di patatine sono miei tre il cibo volante mette appetito difficile da capire perché per chi non sa volare è difficile ma ora muoviamoci prima che i prezzi aumentino